il natale del topo che non c'era di giovanna zoboli e lisa d'andrea edizione topi pittori un giorno il topo che non c'era guardò dalla finestra e vide che stava arrivando natale così prese carta e penna e si mise comodo e cominciò a fare la lista di tutto quello che gli serviva per accoglierlo come si deve neve cubì che nei libri di cucina significa quanto basta palline tutte quelle che stanno nella cassa sotto al lavandino lucine negozio cinese tacchino di formaggio mele castagne e pan grattato per il ripieno 12 uova e colori per le decorazioni panciato rosso più cilindro inviti tombola rumore centro tavola rami di pino candela nastri tovaglia mollette da bucato calzolaio e invitati era una bellissima lista il topo che non c'era fu così soddisfatto che subito si infilò la giacca afferrò la sciarpa e corse dal suo amico gatto che si era trasferito ad abitare proprio vicinissimo a lui così potevano vedersi tutte le volte che capitava qualcosa di eccezionale il gatto gli offrì una tazza di tè una ciambella prese la lista la lesse si grattò dietro l'orecchio destro poi dietro quello sinistro infine pensò che quella era la lista più piena di errori che avesse mai letto quindi prese carta e penna si mise comodo e cominciò a scrivere sabbia cubi angeli abete polpettone calze della befana barba finta più naso finto segnaposto shangai funter karsen corona di agrifoglio asciugamani pentole da campeggio idraulico ah sì invitati la rilesse due volte gli sembrò ben fatta una lista perfetta per un natale memorabile così la passò al topo il topo che non c'era provava grande ammirazione per il suo amico gatto per esempio trovava che il modo in cui gli finiva la coda fosse insuperabile e che la distanza fra le sue orecchie fosse da manuale per non parlare dei baffi che certo non arrivavano allo splendore di quelli di un topo ma per essere di un gatto erano davvero ammirevoli ma in fatto di liste il gatto era chiaro non capiva niente come poteva trascorrere un natale memorabile senza 12 uova colorate o un centrotavola o senza un tacchino di formaggio un panciotto più cilindro un calzolaio e una confezione di mollette da bucato all'improvviso tuttavia gli venne un dubbio provò a concentrarsi sul calzolaio a cosa poteva servire a natale un calzolaio si chiese a pareggiare i piedi del tavolo o forse era un invitato provò a riflettere come mai nella lista aveva scritto calzolaio non ricordava nemmeno perché avesse scritto mollette da bucato forse perché le mollette da bucato sono sempre utili anche a natale era terribilmente imbarazzante fu così che fece notare al gatto che un set di pentole da campeggio davvero non servono a niente a natale e nemmeno di un naso finto non si sa che fare a benvedere il 25 dicembre e di un calzolaio allora? fece subito notare il gatto per non parlare di quelle ridicole mollette da bucato insomma avete capito fra gatto e topo si accese una discussione e fra mollette da bucato nasi finti tacchini di formaggio agrifogli e tombole la discussione divenne litigio e da litigio fra tovagli asciugamani stelle angeli palline e idraulici si trasformò in zuffa proprio come tutti si aspettavano tutti? tutti chi? beh tutti quelli che sanno come va il mondo e come va il mondo? beh nel modo in cui tutti sanno infatti quando mai si sono visti un gatto e un topo andare d'accordo eccezione fatta che in certi libri chi pensavano di essere quei due per andare d'accordo? lo dicono tutte le storie che gatti e topi non si capiscono fin dai tempi dei tempi soprattutto a natale gridò infatti il topo che non c'era quando tutti si vogliono più bene rincarò la dose il gatto dopodiché il topo uscì sbattendo la porta anche al gatto venne voglia di uscire sbattendo la porta però non poteva perché era già a casa sarà per un'altra volta si disse la sera il topo che non c'era telefonò anche il gatto telefonò ma non fatevi ingannare dalle apparenze ognuno telefonò ai suoi famosi cugini quelli che abitavano al mare e quelli che abitavano in montagna infatti cosa c'è di meglio di un cugino per farsi consolare e dare ragione? niente fatta eccezione per quei cugini di mare e montagna che erano cugini un po' particolari cugini che vivono in certi libri e che magari ti consolano ma vigliacchi se ti danno ragione insomma cugini basti a incontrare un tacchino di formaggio? rumore? abecchi? agrifoglio? polpettoni? shangai? e quando mai si festeggia un Natale così? esclamarono infatti quei cugini tutti insieme e per dimostrare quanto fossero sciocche quelle idee ognuno di loro volle fare la propria lista con gli ingredienti per un Natale perfetto e dopo che ognuno abbia scritto la propria si procurarono una bella scatola grande un bel foglio di carta da regalo un bel nastro e confezionarono il più clamoroso pacco regalo che mai fu destinato a essere scartato i cugini topi di mare lo spedirono al gatto e i cugini gatti di montagna lo spedirono al topo i pacchi arrivarono a destinazione il 24 dicembre proprio quando in tutte le case servevano gli ultimi preparativi anche in casa del gatto anche in casa del topo e adesso prima di girare pagina fermatevi un attimo a pensare cosa potevano contenere quegli ingombrantissimi pacchi e adesso prima di girare pagina fermatevi un attimo a pensare cosa poteva esserci scritto su quei biglietti di auguri al mondo ci sono troppi natali perfetti per essere veri fu una festa bellissima un po caotica a dire il vero ma memorabile e davvero piena di cose incoerenti a voler essere giusti cose come un calzolaio delle mollette da bucato una cuffia da bagno una carriola un calzino spaiato un accappatoio di spugna e molte altre che potevano lasciare molti dubbi e tuttavia tutti furono concordi nel dire che fu sicuramente anche per merito loro se quel Natale riuscì a meraviglia con buona pace di tutti quelli che sanno come va il mondo grazie a tutti